Dalle idee ai progetti, dai progetti alle attività, il convegno che si è svolto a Massicelle presso il Museo del Giocattolo Povero, nel quale sono stati presentati i villaggi delle tradizioni. Relatori Cono Delia, sindaco di Morigerati, Alberto Del Gaudio, sindaco di Montano Antilia, Aldo Luongo, sindaco di Cuccaro Vetere, Nicola Marotta, sindaco di Rocca Gloriosa, Carmelo Stanziola, sindaco di Centola, Ferdinando Palazzo, sindaco di San Giovanni Appiro, Carmine Farnetano, coordinatore e Pietroforte, presidente del GAL Casa Castra. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Antonio Valiante. I presenti, dopo aver illustrato le proprie esperienze, si sono trovati d'accordo sulla necessità di fare rete per crescere conservando e valorizzando le peculiarità che contraddistinguono le realtà dei comuni. Fondamentale dunque evidenziare i tratti distintivi per poi camminare e migliorare insieme.